Sì, tanto saluto Marco, Antonella in studio, ciao a tutti, è stata una buona partita, amministrata dal primo a quasi all'ultimo minuto, abbiamo sofferto un po' di ripartenze, ma alla lunga è uscito fuori il nostro gioco, magari più esperto del loro. Credo che affronteremo l'ultima gara, insomma, per rispettare anche il calendario, porteremo dei ragazzi dalla primavera, anche per fare un po' di esperienza dei nostri giovani, della nostra società, e niente, speriamo di continuare così e di portare in porto questo torneo. Grazie.